Ok giornali, buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, come sempre sintonizzati sul nostro canale 17 per essere aggiornati ed informati su tutto. Si comincia al mattino alle 7 e mezzo in diretta per poi proseguire durante la giornata con altri appuntamenti informativi e poi alle 20 e 30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Ma vi ricordo anche che abbiamo come sempre la nostra applicazione che si scarica da Google Play, basta scrivere Occhio alla Notizia e lì avrete tutti gli strumenti per essere aggiornati davvero in tempo reale, per non parlare poi dei social network Facebook, Twitter e naturalmente il nostro portale che ha una novità, vi invito ad andarlo a visitare. Occhio alla Notizia.it Andiamo subito con il santo del giorno, vediamo il santo di oggi, San Nazario e Celso, i martiri santi quindi. Il sole è sorto alle 5 e 51 e tramonterà alle 20 e 38. Un sole che splende anche oggi, vedete, bello, alto, già alle 7 e 30 del mattino con temperature che si aggirano intorno ai 26 gradi. La giornata di oggi, prevista così come la prevede la protezione civile delle Marche, indica cielo sereno poco nuvoloso, nuvolosità in particolare solo nell'entroterra, temperature in lieve aumento. Per domani lo stesso, cielo sereno su tutta la costa con temperature ancora in aumento. Giovedì non cambia nulla, siamo alla fine del mese, 30 luglio, cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in ulteriore lieve aumento. Insomma, durante la giornata di venerdì e nel fine settimana vi potranno essere deboli condizioni di instabilità, ma tutto da confermare, tutto da vedere poi nel dettaglio. Allora cominciamo oggi la rassegna stampa, come sempre guardando i giornali e le ultimissime dalla procura, perché sul caso, sull'omicidio di Ismaele Lulli, il ragazzo di 17 anni di Sant'Angelo Invado che è stato sgozzato da due albanesi, ma forse, ed ecco la novità, gli inquirenti pensano che ad agire non siano stati soltanto i due ormai noti, Igli e Mario, ma potrebbero esserci dei complici, altri complici, qualcuno che potrebbe per esempio aver aiutato Igli e Mario a portare in macchina Ismaele dalla fermata dell'autobus di Sant'Angelo Invado fino alla croce di San Martino in Selva Nera. E già, perché Ismaele era alto, era un ragazzo piuttosto alto, più alto sicuramente dei due ragazzi che lo hanno legato, che lo hanno legato alla croce, che lo hanno tramortito prima. Insomma, in due comincia a essere un po' difficile. Ecco perché gli inquirenti stanno cercando di capire se ci possano essere state altre mani a bloccare, a tenere fermo, a immobilizzare il povero Ismaele. E poi Ambra, o Ambera, la ragazza di Igli, che ieri il giornale Resto del Carlino dava per sparita nel nulla, in realtà non è sparita nel nulla, è ancora a Lunano, quindi in provincia di Presurbino, è con il padre, perché la procura vuole interrogarla. L'ha già fatto, lo ha già fatto il capo, Irene Lilliu, e dovrà stare lì. Dovrà stare lì perché anche la sua posizione è tutta da capire, tutta da chiarire, ci sono delle cose che non vanno e ha un ruolo non da poco. Vi lascio leggere ovviamente tutto il pezzo di Roberto Damiani questa mattina del Resto del Carlino. Ambera naturalmente è rimasta con il padre, dicevo, in Italia, mentre la mamma con gli altri figli se ne sono andati via e il giornale scrive per sempre. Dunque, vediamo velocemente, perché poi più o meno vi ho raccontato, anche se poi ci sono tutti i dettagli particolari in questo interessante articolo, dicevamo dei dubbi su questi fatti, non si esclude la presenza di altri al momento dell'agguato alla fermata, poi non si sa che fine abbiano fatto, ovviamente dopo, perché pare che alla croce erano soltanto Igli e Mario, ma in che condizioni è arrivato alla croce il povero Ismaele. Può essere che sia stato già tramortito all'interno dell'auto, quindi con l'aiuto di più persone, se consideriamo uno che guida, l'altro che sta dietro da solo non può fare tutto, quindi deve avere avuto sicuramente l'aiuto di qualcuno, può avere avuto l'aiuto di qualcuno. La ragazza invece dal PM, per la fidanzata di Igli, rinviata Polina alle vacanze, è rimasta con il padre. E la frase, la frase sulla quale si stanno concentrando gli investigatori, è una frase pronunciata da Igli nella confessione. Sono uno dei ragazzi che ha ucciso Ismaele. Sono uno dei ragazzi che ha ucciso Ismaele. Dunque bisognerà davvero vedere bene, ma su questo c'è tempo. Sempre dal giornale bolognese Il resto del Carlino, il fatto di una donna aggredita, che però pare fosse ubriaca, lei racconta mi hanno derubato nella notte, ma non si ricordava altro e ha poi rifiutato il ricovero in ospedale. Una donna di 36 anni, stesa su una panchina in via Cialdini a Pesaro alle 7.30 del mattino, sembrava appunto vittima di un'aggressione, quindi qualcuno ha chiamato il 118. Poi guardate invece questa fotografia, questo tir che è finito fuoristrada a Casinina e che ovviamente ha provocato oltre impressione, guardate qua, con tutte le ruote all'aria, anche grande paura. A Fano invece un ubriaco, un automobilista ubriaco che va contromano sulla statale, bloccato dalla polizia all'altezza di Metauriglia di Fano, un 33enne di Montemaggiore. Poi chi è di Fano sicuramente sa di cosa e a chi mi riferisco. Ha un 44enne che solitamente con la sua compagna sta ai giardini del Pincio, per un po' di tempo è stato anche sotto la valla da San Michele. Insomma, questo clochard che adesso è in carcere perché senza casa, senza fissa dimora e quindi non può stare agli arresti domiciliari. Ieri i carabinieri sono andati a prenderlo verso l'ora di pranzo, lo hanno trovato sempre lì nei paraggi del Pincio e questo per eseguire un ordine di carcerazione per cumulo di pene. Sant'Arcangelo, siamo in centro Corso Matteotti, torna la rampa della discordia, la vedete in questa immagine, eccola qui la rampa, è stata tolta, era stata tolta perché è considerata brutta, ma anche per dare spazio ai lavori di ristrutturazione di questa ex chiesa, però è un servizio per disabili. Si riaccende dunque la polemica, Francesca Busca dice è utile, le brutture sono le bici sui monumenti. Poi i commercianti che ieri hanno manifestato in città all'inizio di Corso Matteotti, avevano chiamato a raccolta tutti i commercianti per protestare contro l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Seri, un'amministrazione che lo ricordo anche per chi ci segue, magari che non è di Fano, quindi turisti, è un'amministrazione a Fano di centro-sinistra. La manifestazione di ieri dei commercianti è stata per il Carlino un flop, c'era poca gente in strada, è caldo ed è caldo anche per protestare. Hanno portato, lo vedremo tra poco sul messaggero, una bara finta al sindaco di Fano che però ha detto la bara mi sembra un po' eccessiva. Lascio la pagina, l'ultima pagina del resto del Carlino, questa in fondo perché la teniamo come caffettino della mattina. Allora, c'è poca acqua vietato innaffiare e lavare le auto. Il sindaco ieri ha emesso un'ordinanza che limita i consumi agli usi alimentari e igienico, non si possono neanche riempire le piscine. Eccola qui dunque la bara che dicevamo, una bara portata in corteo dai negozianti ma la manifestazione di protesta per gli eventi e la cura del centro, solo una ventina di commercianti. Che cosa chiedevano i nostri commercianti? Chiedevano il ritorno del carnevale estivo, della Fano dei Cesari e meno repressione dei vigili urbani. Dopo l'impegno di serie alla concertazione, espressa sorpresa per la riunione sul Natale senza esercenti. Già perché ieri con 40 gradi si parlava di Natale. Siamo avanti. Ubriaco al volante, anche questo l'abbiamo visto, procede contro mano, tragedia sfiorata sulla Adriatica, poi ruba una bicicletta ma è stato subito arrestato un romeno di Sassoferrato che è già stato condannato. Non c'è il carnevale estivo però il super presidente Luciano Cicchini dell'ente carnevalesca ha organizzato per quest'anno la festa per i mille soci, i mille soci tesserati a lente appunto. Mille soci alla festa in piazza, ci sarà il record di iscrizioni con l'orchestra italiana Bagutti che è una bella orchestra, una delle più importanti, una volta c'era Raul Casadei, adesso invece c'è sicuramente Bagutti e tanti pupi, pupi di carta pesta. In questa fotografia vedete anche Cicchini, il presidente e di qua invece nella foto grande un momento dell'edizione 2014. Si è capito che l'edizione estiva si deve fare, i carristi per contare entrino nel direttivo. Cicchini ironizza sui buoni rapporti con la Giunta e il a simultaneo concerto jazz all'anfiteatro Rashtet. Nessun aumento con mezzo milione di tagli, il sindaco Baldelli, siamo a Pergola, presenta il bilancio di previsione. Rispunta anche qui la pedana che deturpa il Sant'Arcangelo, a Mondolfo al via il cinema altrove per quattro serate. Andiamo sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico, guardate qui, treno Merci perde un respingente, un ferroviere in pensione lo rimuove ed evita l'impatto con un freccia bianca. Sotto invece continua l'azione repressiva dei vigili urbani di Senigallia contro la prostituzione in strada. Maximulte, l'esquillo si spostano adesso in periferia. Il sindaco Mangialardi, per chi non paga, abbiamo previsto anche 100 euro in più, se non versano nei termini di legge. E adesso invece apriamo il messaggero. Il messaggero Marche si occupa di sanità regionale. Sanità perché? Perché il presidente della regione Ceriscioli ha nominato i vari direttori di Aree vaste, eccetera, eccetera. Insomma, si riparte da Marini al vertice di Asur. Alessandro Marini che è il nuovo direttore dell'Asur. Marini, eccolo qua, Ceriscioli, il nostro presidente della regione Marche. Aree vaste, sorpresa, Livini a fermo, Capocasa resta d'Ascoli, a Macerata Maccioni, bevi l'acqua d'Ancona, Pesaro invece sarà diretta da Di Bernardo. Poi ancora, centrodestra, accordo sul dopo Zaffiri, che aveva criticato, ormai è nota, il prefetto Gabrielli. La leghista Malaigia tra due anni Celani. Questo è un po' l'accordo preso. Poi su Lici, siamo a Pesaro, Lici che dovrebbero pagare anche gli istituti paritari gestiti dalla Chiesa. ICI, sei scuole paritarie a rischio. L'assessore delle noci applicare la tassa sugli immobili potrebbe costringere questi istituti alla chiusura e dunque va scongiurata. Casa Rossini apre agli effetti speciali e Figaro fa la barba. La casa natale del Cigno arricchita di foto e sala audio-video ai visitatori occhiali speciali per immergersi in animazioni virtuali. Ancora dal messaggero il messaggio trappola e qui siamo alla cronaca, inviato da Ambera, glielo chiede Igli per indurre Ismaele Lulli a uscire da casa. Il giovane pensa di vedere lei, invece va incontro alla morte. Questa è una cosa terribile. Poi l'invita, sempre Igli, invita a trasmettere un altro sms alla vittima che nel frattempo, pensate, era già stata uccisa. Serviva questo da messi in scena. La ragazza avverte Meta di essere stata chiamata dai carabinieri e gli dice di non muoversi. Il sindaco di Sant'Angelo in Vado per alcune etnie è normale girare con lame in tasca, quindi con i coltelli in tasca, ma girare con questi coltelli in tasca non è più tollerabile. Intensificati i controlli e la prevenzione. C'era anche una pagina sul resto del Carlino. Eccola qua, che non vi ho letto. Torniamo un attimo sul resto del Carlino. A Orciano difende l'auto a colpi di spranga. I militari la stavano sequestrando per ordine del tribunale un albanese aggredisce i carabinieri ed è stato arrestato. Quando i carabinieri gli hanno comunicato perché erano lì, insieme a quelle altre due persone, lui non ci ha più visto. Ha afferrato un arnese in ferro, si è scagliato contro i militari cercando di colpirli. E' accaduto ieri mattina intorno alle 8 a Schieppe di Orciano. Poi, sempre sul resto del Carlino, andiamo su quest'altra pagina perché sempre sull'orribile delitto. Ieri a Sant'Angelo in Vado, come vi ho detto, c'è stato l'incontro che era già organizzato a tempo in realtà, però poi, viste i fatti degli ultimi giorni, è diventato urgente, cioè il comitato per l'ordine e la sicurezza che solitamente si fa in giro per la provincia. Questa volta è toccato coincidenza a Sant'Angelo in Vado. E che cosa è emerso da questo comitato, da questa riunione? Vedete qui il prefetto, qui sotto il prefetto, poi c'è il questore sommese, il colonnello dei carabinieri che ha svolto egregiamente tutte le indagini fino a questo momento. Ebbene, il prefetto ha detto di non vedere allarmi particolari, i reati sono i reati classici, come i furti, che però sono anche diminuiti. All'incontro, come dicevano, hanno partecipato anche, oltre che al questore, il comandante dei carabinieri, i sette sindaci dell'Alta Valmetauro e quelli di Lunano, ma c'erano anche i rappresentanti dell'ufficio scolastico provinciale. Questo perché si deve partire dalla scuola. E allora partire dalla scuola, adesso io non so se l'hanno preso in esame questa cosa, ma sarebbe interessante che al posto di portarli al museo, che a quell'età è tempo perso, spesso, non dico sempre, ma spesso è tempo perso, non sarebbe male portare per esempio i ragazzi, quelli di quinta, di tutte le scuole, di quinta superiore, al posto di portarli al museo si porta una giornata in carcere per raccontare testimonianze, vedere come si vive in carcere, perché altrimenti questi hanno, e qui lo sentono dagli adulti, l'idea che comunque chi sbaglia in Italia non paga mai. In realtà si paga e come? E quindi sarebbe interessante che al posto di portarli a spasso, ecco una giornata all'anno si dedica, mettendosi d'accordo, una giornata al carcere, 3-4 ore in carcere per sentire testimonianze, vedere come si vive, vedere come si funziona e come non funziona. E sono cose che rimangono dentro un giorno, altrimenti non c'è modo di farglielo capire, non c'è modo di far capire come vanno le cose, perché se no c'è sempre l'idea che anche il giovane, sentendo gli adulti, ah ma tanto quello fra due giorni è fuori, ah tanto quello che, in realtà non è così, sì magari fuori perché spaccia due grammi di marijuana, però chi commette omicidi spesso rimane in carcere, di lui non si sa più nulla e quindi è così. Ma adesso, chiuso questo argomento, è tardi, però questa ve la voglio leggere bene, perché fa veramente ridere, se avessimo una base per le comiche metteremmo anche la base delle comiche, ma siamo una rassegna stampa e quindi non possiamo farlo, ecco qua, allora preparatevi, se avete il caffè mettetevi seduti, tanto siete tutti in vacanza più o meno. Allora, Carla Luzzi, chi è Carla Luzzi? Carla Luzzi è una consigliera di Sinistra Unita, che probabilmente ha avuto un colpo di sole, si è svegliata e si è venuta fuori e ha detto adesso dico la mia sull'affano dei Cesari e sul carnevale estivo. E che cosa dice? Dice che non ha mai amato l'affano dei Cesari, e vabbè, parere personale, che poteva tenerselo per sé, perché qui stiamo tutti dibattendo sull'affano dei Cesari, che invece è una cosa importante, che potrebbe essere certamente migliorabile, però insomma, però lei non ha mai amato l'affano dei Cesari. E il carnevale, dice la Luzzi, va celebrato d'inverno. Perché? Non si sa. Ieri sono andato a vedere, poi tra l'altro, perché dico, boh, adesso ci sarà un motivo per cui la Luzzi dice che il carnevale è d'inverno. In realtà sono andato a vedere i filmati, e fattolo anche voi se avete tempo su internet, l'Istituto Luce, che è la memoria storica dell'Italia. Ebbene, esiste un filmato, se non ricordo male, del 1936, che parla sì di carnevale fuori stagione, perché evidentemente c'è quell'idea che il carnevale sia invernale. Però c'erano fior fior di eventi e di carnevali anche durante l'estate. E il carnevale estivo è sempre stato fatto al mare, fino a quando c'era lo spazio per farlo, fino a quando c'era la strada sufficientemente larga per portare i carri. Poi è stato fatto questo splendido viale che abbiamo sotto gli occhi di tutti, che di sera è animatissimo, è pieno di gente, non c'è mai nessuno d'estate, stiamo parlando di via Adriatico, quindi la carreggiata si è ristretta, non c'era più spazio per i carri, quindi il carnevale estivo non si è più fatto. Ultimamente sì, è stato fatto un qualcosa che aveva una parvenza, anche se delle cose erano belle. E quindi questo è. Ma a un certo punto, dice la Luzzi, nel suo solilocchio pubblico, già qualche anno fa avevo riflettuto su alcune criticità della manifestazione, sul grande consumo di alcol, sul tanto denaro speso e udite udite sull'inquinamento acustico ed ambientale. Una tragedia. Ed il peggio arrivava con il fiore all'occhiello della manifestazione, la corsa delle bighe che comportava, pensate, ricoprire tutto l'anello del Pincio con grandi quantitativi di sabbia. Chi viveva lì, attenzione, chi viveva al Pincio si sentiva agli arresti domiciliari per circa 15 giorni. Finita la festa, se così la si può chiamare, rimanevano i segni dello sballo e il degrado di quella parte della città. E vabbè, il degrado. Ma, e chiudo con questo, qual è la soluzione? Perché uno che critica dice, vabbè è facile criticare, ma dacci una soluzione. Qual è la soluzione? La soluzione, la Carla Luzzi, questa signora che è qua su sul giornale, vedete, eccola qui, la soluzione di Carla Luzzi, immaginavo che arrivasse lì. Occorrerebbero nuove idee, iniziative correlate e qualificate, momenti di approfondimento culturale che accompagnino i momenti di svago. Si dovrebbe riprendere lo spirito che aveva accompagnato l'edizione di Carlo Fo. Eccola qua. Buona giornata.